eccoci questa sera luisa mandrino presenta con noi il maestro e il campione una storia di box io sono luca rinaldi e ho curato questo questo libro di luisa che ho amato fin dal momento in cui luisa me ne ha parlato inizialmente era era nato come è come un discorso fatto per per capire un po quali erano le possibilità di un libro di questo genere di di questo di portare avanti un progetto di questo tipo e anche per per capire un po che tipo di di approccio utilizzare in un all'interno di un libro di sport che è sempre sempre materia materia scivolosa il libro di sport non sono non sono libri libri semplici da scrivere per cui è nato un po così per confronto questo questo tipo di di approccio tra me luisa abbiamo cercato di di portare avanti il discorso di capire come come poteva essere utile svilupparlo tangenzialmente incontrava peraltro una storia che che io stesso con conoscevo con personaggi comunque a me noti perché sono personaggi che hanno vissuto e nella stessa e attualmente ancora almeno uno di loro vive nella stessa città da cui da cui vengo io e sono stati due personaggi che io stesso ho incrociato più volte nella mia vita quotidiana quando appunto andavo andavo anche ad allenarmi da da ragazzo giocavo a calcio e quando andavo allo stadio ricordo ancora gli allenamenti dei pugili e dell'accademia pugilistica vigevanese e ricordo la figura di di vincenzo imparato che io stesso se una carriera che io stesso ho seguito e sono andato più volte anche a vedere incontri incontri suoi soprattutto quelli appunto organizzati organizzati qui a vigevano ed è una storia una storia particolare una storia che che mi ha colpito sia per la storia in sé sia per come poi luisa l'ha portata avanti e la e la e la sviluppata è una storia che ho riletto poi una volta una volta una volta conclusa e in questa storia come ha scritto tra l'altro stamattina anche la la gazzetta dello sport è un libro che che prende nel pieno l'essenza l'essenza del pugilato e questo secondo me è il suo è il suo grande pregio per cui io introduco luisa con con una domanda chiedendole come 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 ha fatto e come hai fatto a capire a incastrare bene a incrociare in questo in questo modo la l'essenza del pugilato di questo di questo sport beh intanto ti ringrazio di di essere qui con te e poter parlare del mio libro e ti ringrazio anche di tutti i consigli che mi hai dato sia all'inizio e anche mentre lavoravamo a questo libro perché sono stati molto utili anche perché sei uno che se ne intende di sport molto più di me e io non sapevo niente di pugilato e forse questo è stato un bene per questo libro perché non avevo ero appassionata mi piaceva il pugilato però non lo conoscevo e sono andata subito dal maestro ciro converti che insegna vigevano all'accademia pugilistica vigevanese che è stato il maestro di vincenzo imparato e ho cominciato proprio da zero con lui io gli ho chiesto se potessi raccontare la sua storia e lui mi ha detto di sì subito e mi ha invitato ad allenarmi nella palestra di pugilato di vigevano io non avevo mai fatto pugilato non sapevo niente e così credo che questo fatto di partire proprio da niente cioè dal dal primo momento in cui il maestro mi ha messo in guardia davanti allo specchio sia stato fondamentale per capire poi che cos'è il pugilato cioè io lo devo a ciro converti l'aver capito che cos'è il pugilato certo e per cui ti sei messa ti sei messa in gioco in gioco tu in prima persona ma era un una cosa un elemento questo che avevi già in animo di fare quando avevi in testa il libro oppure è stata un'occasione che ti si è presentata e a cui tu poi non hai più potuto sottrarti no no io avevo avevo in mente di provare andare in una palestra di pugilato perché quando scrivi di qualcosa è bello andare andare sul posto vedere come sono le cose dal vero no e niente come una palestra di pugilato è una è un ambiente un'atmosfera che conosci solo se ci vai perché non 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 è che te la puoi inventare insomma devi un po devi un po conoscerla poi certamente con la con l'invito di converti non ho potuto dire di no anche perché se no tra l'altro ci avrei fatto una figuraccia con converti veramente non mi avrebbe fatto raccontare la sua storia no e quindi sono anche impegnata a non fare brutta figura con 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 lui poi ho fatto brutta figura perché mi ricordo che le prime volte non capivo niente perché il pugilato è un è uno sport difficilissimo tutto di concentrazione di e quindi ho fatto sicuramente brutta figura però lui è stato molto paziente e mi ha aiutato a capire che cos'era che cos'è questo sport poi naturalmente quando una persona ti racconta la sua storia e in questo caso si sia nel caso di ciro che nel caso di vincenzo imparato era tutta sul ring mi hanno proprio fatto entrare questa questa storia nel nel cuore insomma il pugilato è proprio uno di questo sport è uno di quelli sport dove il cuore fa fa la differenza tu questo nel libro lo 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 sottolinei più volte e viene viene fuori proprio anche dalle parole dalle parole di vincenzo stesso poi questa questa cosa che cosa che cosa hai capito del cuore del pugile perché fa la differenza una volta che si è su ruling sai che si dice no che il cuore non mente e secondo me il pugile vero non può mentire è uno degli sport più sinceri che esistono poi è chiaro che anche nel pugilato ci sono le le storie che con la con la sincerità non hanno a che vedere niente no però in generale il pugilato è uno sport che parte parte dal dal cuore nel senso che tu devi essere sincero quando vai sul ring perché se no non riesci a combattere e poi invece il questo grande cuore dei pugili che io sentivo di cui sentivo sempre parlare ed era una cosa che mi incuriosiva volevo capire che cosa fosse l'ho capita man mano che mi addentravo in questa storia e che e che ne scoprivo tutti i contorni insomma certo è un'altra cosa che che mi ha colpito molto nel libro nel modo in cui tu tu lo racconti è il il rapporto che si crea tra il maestro e il campione e il pugilato è uno di quegli sport dove questo tipo di rapporto è veramente decisivo forse lo sport individuale ma anche raffrontato ad altri sport di squadra dove il rapporto tra l'allenatore e il suo pugile è la cosa forse è una delle fondamenta del sia della carriera del pugile dentro e fuori da ring questa è una cosa anche che che traspare dalle dalle righe del tuo libro e le sei riuscita a coglierla a coglierla benissimo per cui la mia curiosità ecco come sei riuscita a capire questa questa tensione anche che c'è tra il maestro il campione continua per cui anche sia dentro il ring sia fuori dal ring ma allora guarda anche in questo mi ha aiutato comunque la realtà cioè andare a documentarmi sui fatti perché io conoscendo prima il maestro e poi il campione e poi avendo anche la fortuna di vederli insieme perché un paio di volte siamo riusciti a incontrarci anche tutte e tre insieme ho capito questo legame prima di tutto dal fatto che dopo tanti anni che vincenzo non combatte più si sente ancora fortissimo questo legame che ha con il suo maestro e poi perché anche quando mi documentavo vedevo gli articoli di giornali dei loro vecchi incontri così anche solo dalle fotografie dove erano ritratti insieme si vedeva che c'era una forte legame tra tra di loro per come ho fatto capirlo l'ho capito dal da come mi hanno raccontato gli incontri perché il pugile quando è affronta un match completamente solo è solo sul quadrato a soltanto il maestro che lo segue dall'angolo e lo aiuta e quindi questo è un legame fortissimo un'altra cosa che ho capito lavorando a questo a questo libro a questo rapporto perché a me interessava proprio andare a capire qual era il rapporto tra il maestro e il campione è stata quella di vedere come loro hanno saputo affrontare delle difficoltà insieme non solo le vittorie perché i pugili devono convertiti che un pugile deve deve saper perdere deve imparare prima perdere per poi vincere e quindi questa questa cosa sia nelle sconfitte sia nelle vittorie che nelle difficoltà ho visto questo questo grande legame poi tieni conto che un un maestro è già salito prima di del suo pugile sul ring e quindi questa questo legame è ancora più forte perché il pugile anche il ragazzo giovane no che va sul ring come è successo a vincenzo nel suo al suo debutto e poi durante la sua carriera sa di avere vicino una persona che ha combattuto prima di lui e che che conosce perfettamente tutte le emozioni e le difficoltà che ci possono essere durante un match certo sì infatti come questo questo tipo di rapporto è fondamentale per capire sicuramente sicuramente tutto tutto il libro e torno facciamo però un passo indietro perché anche io ancora questa curiosità perché nonostante tutto questo tempo io non ti ho ancora chiesto questa cosa per cui è in anteprima in anteprima per tutti anche per me quando è che è scattata la scintilla per scrivere questo libro quando ti è venuto in mente e soprattutto perché ma mi è venuto in mente perché io conoscevo vincenzo imparato lo conoscevo da quando da quando ero una ragazza perché lui aveva un bar di fronte alla alla casa di mia madre e quindi io lo conoscevo di vista e una sera l'avevo anche visto combattere mi era piaciuto molto perché comunque mi è sempre piaciuto il pugilato e quindi l'avevo visto combattere poi questa cosa si era era rimasta accantonata a un certo punto mi è mi è venuto voglia di di scrivere di loro perché un po forse anche per la voglia di tornare a casa perché è stata una una storia bellissima che avevo a pochi passi da casa e e poi perché avevo avevo amato anche il cinema la box nel cinema e quindi era tutta una serie di cose per cui alla fine ho detto sì mi piacerebbe provare a scrivere questa storia forse anche per delle mie vicende precedenti può darsi che avessi anche voglia di tirare qualche pugno a qualcuno perché questa è una cosa che poi il maestro converti me l'ha detta mi ha detto quando uno entra in una palestra del pugilato non è mai perché non c'è niente dietro cioè ha voglia di magari a qualche conto in sospeso no con qualcuno anche con se stesso e quindi hai proprio voglia di di cambiare io l'ho sentita anche un po in questo in questo modo e poi ti dirò un'altra cosa che nessuna storia come una storia di box ha bisogno da parte di uno scrittore di un'estrema sincerità torniamo sempre a quel grande cuore no di cui parlavamo e quindi forse avevo bisogno anche per il mio lavoro di andare a a trovare una scrittura che fosse veramente eh una cosa che sentivo che fosse veramente ancora più mia di quello che avevo fatto fino a quel momento insomma certo hai nominato la la scrittura che è appunto una bella sfida nel in un all'interno di di un libro di sport come come hai affrontato la la stesura la stesura del libro è stato in quali sono state le le fasi più più complicate più complesse perché è vero che la box e soprattutto questa box che racconti tu nel libro è una box romantica già di già di per sé anche probabilmente anche l'affrontata alla 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 box alla box di oggi per cui diciamo che da molti da già molti spunti però è sempre complicato poi metterli su una metterli nero su bianco quindi la mia la mia curiosità credo anche quella di molti di molti lettori è un po quella di capire come come è funzionato questo processo creativo e poi di scrittura guarda la prima la prima cosa importante l'ho proprio presa in prestito dai pugili che frequentavo in quel periodo e c'è la disciplina cioè io mi sono data una una disciplina che forse non mi ero mai data prima e ogni volta che mi mettevo al computer mi veniva in mente mi venivano in mente le cose che mi raccontava Ciro di quando ogni e anche Vincenzo di quando ogni giorno un pugile va a fare footing alla mattina presto no e non c'è non c'è via di scampo se vuoi se vuoi arrivare alla preparato a un match devi fare delle delle cose non puoi assolutamente sottrarti all'allenamento fatto in un certo modo ho cercato di di mettere nel mio lavoro lo stesso la stessa passione e anche lo stesso sforzo che può mettere un pugile per 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 andare ad affrontare un match perché in questa storia c'erano delle cose anche molto particolari da raccontare no poi ne parleremo e quindi io mi sono dovuta preparare ad essere anche in grado di poi scrivere eh determinate cose insomma quindi penso la disciplina la disciplina però anche ad esempio eh tutte le cose anche quando ad esempio ho visto tanti match insieme a circonverti no lui mia mi invitava a casa sua e vedevamo questi match insieme e quindi io cercavo anche di carpire la la fantasia che può avere un pugile no quando è sul ring ho cercato poi tutte queste cose di di mettere nella mia scrittura certo è la fantasia la fantasia del pugile questo è un concetto è un concetto interessante perché si sente spesso applicato per esempio a uno sport come come il calcio dove addirittura c'è il fantasista in una squadra di calcio ma quando tu parli della fantasia del pugile precisamente a cosa a cosa ti riferisci cos'è che ti ha comunicato questo tipo di sensazione di immagine e soprattutto il fatto di di sapere quale colpo preciso mettere in quell'istante eh al tuo avversario questa è e in un attimo devi decidere devi farlo bene devi fare una combinazione di colpi che eh a a qualcuno non verranno mai in mente invece ai campioni vengono in mente quindi questo io l'ho trovato molto molto fantasioso ehm chiaro è interessante perché è un termine che effettivamente non mi sarebbe mai venuto in mente per descrivere l'azione di l'azione di un pugile però del resto tu hai scritto il libro quindi io no poi c'è anche molta intuizione no tu il il pugile deve sempre ehm precedere quello che e cercare di capire che cosa farà il il suo avversario sul ring no e quindi eh l'intuito ehm è sempre è sempre vivo poi c'è la la concentrazione e a quel punto quando le due cose vanno bene insieme ecco che arrivano i colpi vincenti insomma io l'ho vista così chiaro adesso io sfoglio sfoglio il libro e eh a metà eh c'è un un comparto fotografico nutrito e molto molto bello molto evocativo quanto quanto ti è servito anche questo per scrivere perché alla scrittura poi si nutre moltissimo delle immagini eh davanti davanti agli occhi quanto ti è servito quanto ti sono servite queste queste fotografie per eh per scrivere eh mi sono servite tantissimo come puoi immaginare perché comunque io ho ho avuto modo di vedere la tutta la carriera di di converti di imparato attraverso le le fotografie che mi hanno che mi hanno mostrato che sono che sono tantissime tutte molto belle e anche anche i match che abbiamo visto in video sono stati molto interessanti per me poi sai la fotografia ferma sempre un attimo e siccome la box è più di ogni altro come altri sport ma la box è fatta proprio di attimi no quando quando c'è quando vedi quella fotografia del dell'attimo del del KO piuttosto della dell'attimo in cui il pugile ha alza le braccia perché ha capito che ha vinto in quel momento il match quelle quelle sono cose molto molto importanti per poi scrivere perché e poi sai una scrittura magari cerca di di dare proprio delle immagini quindi eh sono importanti per ispirarsi certo infatti sono eh sono sono proprio attimi che poi da queste foto tra l'altro traspaiono sia sia nel momento del eh durante l'incontro sia poi nei momenti nei momenti anche anche fuori dal ring sono sono sguardi che che comunicano molto il momento ehm adesso ti faccio ancora un paio di un paio di domande poi tra chi eh tra chi è in tra chi è intervenuto diciamo così se in questo momento si può si può dire ehm vuole volesse fare qualche qualche domanda così nei commenti noi leggiamo noi leggiamo tutto e posso fare da assolutamente da valletto verso 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 Luisa senza senza nessun problema la domanda eh che eh ti faccio adesso invece va verso sempre un po' verso la scrittura diciamo tu all'inizio utilizzi un 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 escamotage narrativo molto molto interessante molto bello se quindi inserisci inserisci la eh questa vicenda all'interno di quella che io ho sempre visto eh e e continuerò a vedere fino a che probabilmente non lo vedrò eh su su sullo schermo di un cinema come una sceneggiatura eh ed è una scelta molto molto interessante anche qui dove dove è arrivato lo spunto di questo di questo scatto di questa idea ma eh dunque il appunto il libro si apre con una eh una scena in cui un un attore che io ho inventato un personaggio che io ho inventato che è diventato famoso eh come come pugile sullo schermo incontra eh Vincenzo in un in una in una sala di una di un ristorante a New York e questa cosa sempre mi è venuta in mente ispirandomi alla realtà perché Vincenzo adesso vive a New York e ehm di lavoro lavora nel nel caffè in porta caffè italiano e mi aveva raccontato che spesso faceva ehm portava il suo caffè in in delle feste private dove c'erano attori, cantanti, insomma gente dello spettacolo americana e e così raccontandomi questa cosa a me è venuta in mente ho detto ma eh chissà cosa succederebbe se Vincenzo no dovesse raccontare la sua storia a un a un attore eh che con il pugilato è diventato un personaggio e poi mi sono eh appassionata a quest'idea no ho detto ma cosa potrebbero dirsi un pugile vero che sale veramente sul ring e invece un un attore che sale sul ring eh per finta tra virgolette no? Cioè per dare dei dei pugni finti e da lì è partita quest'idea eh di eh di provare a cominciare il libro eh immaginando che che Vincenzo racconti questa storia ehm a una a uno sconosciuto che incontra per caso e ehm ti dirò che eh mi è piaciuto molto anche cominciare così perché ehm a me è sempre è sempre piaciuto il cinema no? E quindi ho ho immaginato eh queste questa storia come si fosse davvero un po' sullo schermo. Certo sì questo si nota molto durante il libro che eh si si apre tra l'altro con un le 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 prime tre righe del libro credo che riassumano anche eh il il concetto e il valore vero del del pugilato in quanto in quanto sport e le le prime tre righe recitano in questo modo se vi piace fare a botte non leggete questo libro parla di due uomini che sono saliti sul ring per migliorare se stessi non per picchiare qualcuno e questo è un manifesto eh prima dicevamo che hai colto l'essenza della box e questo è l'essenza del 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 pugilato e di chi e di chi lo pratica come come ti sei trovata di fronte a queste a queste a queste a queste tre righe alla scelta di di esordire poi all'interno del libro con queste tre righe è una scelta importante è un messaggio anche a chi anche a chi si avvicina a questo sport. Certo ma anche anche queste tre righe me le ha suggerite il maestro me le ha suggerite converti perché le prime cose la prima cosa che lui mi ha detto è stata guarda che la box non è andare sul ring e dare delle botte la box è la nobile arte queste sono state la le prime parole che lui mi ha detto ancora prima che io poi andassi in palestra e lui in qualche modo cercasse di spiegarmi che cos'è questa nobile arte però lui me l'ha detto subito subito mi ha detto non pensare che su una su un ring si faccia botte e ti dirò che molte molte persone credono che la box sia questa roba qua sia violenza sia andare andare su un ring spaccarsi la faccia invece non non è non è questa questa cosa la box allora io ho voluto proprio prendere questa questo primo insegnamento che mi ha dato converti e metterlo nelle nelle prime nelle prime righe del libro mi è piaciuto mi aveva molto colpito insomma certo e poi sempre riguardo anche la difficoltà di dimisurarsi con con libri di questo tipo all'interno poi c'è un evento che che cambia la vita del maestro e il campione che che è la morte di fabrizio de chiara durante il campionato la il team l'incontro per il titolo per il titolo italiano e questo è un evento che cambia profondamente i due i due personaggi ovviamente dal punto di vista sia sia prettamente sportivo del pugilato sia ovviamente poi di quello della 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 vita dei due dei due protagonisti e come come hai colto come hai colto l'essenza di questi momenti e quanto è stato poi difficile rendere questa volta un evento di questo genere nero su bianco beh dunque questo è stato il momento più nel nel libro e anche diciamo nel mio percorso mentre eh ascoltavo la storia da da Ciro e da Enzo è stato il il momento più drammatico no che loro hanno che loro hanno vissuto e mh e però è stato anche un un grande momento di crescita per loro perché eh sono sono riusciti eh anche in una situazione così difficile a credere nel nel pugilato no c'è una cosa molto bella che mi ha detto Vincenzo tra le tra le varie cose eh mi ricordo che lui eh mi ha detto nel il pugilato quando vai al tappeto eh ti lasciano finita ti lasciano stare non invece nella vita quando ti succede qualcosa di molto simile a un K.O. eh continuano ad artele ecco questa è stata una cosa che a me ha molto colpito e ho voluto proprio cercare di di raccontare come questo match tragico che ha portato alla morte eh prematura di Fabrizio De Chiara ehm sia stato ehm poi ehm vissuto da loro ehm in una maniera del tutto fedele allo sport che amavano cioè non hanno smesso di credere che che proprio quello sport li avrebbe aiutati a superare questa questo momento difficile chiaro e questo credo che mh sia stato uno dei uno dei passaggi dei passaggi più delicati all'interno all'interno proprio anche 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 della scrittura credo sì 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 è stato molto molto delicato ehm però è stato un momento che che io ho vissuto ehm proprio attraverso il loro il loro il loro il loro dispiacere ma anche attraverso il loro il loro coraggio per come hanno affrontato eh questo momento e quindi mh questo evento drammatico eh è diventato un momento di di coraggio anche nella nella loro storia e nel libro certo ehm adesso una domanda che mi arriva che mi arriva dall'esterno ehm saresti riuscita probabilmente a mh immagino che durante la scrittura del libro tu abbia poi cominciato a seguire anche ehm mi dicevi altri incontri di fuggilato con cui hai assistito proprio personalmente a cielo converti oppure anche banalmente quelli mandati mandati alla tv anche se purtroppo sono sempre sempre di meno negli ultimi negli ultimi anni eh saresti riuscita nella nella box nel fuggilato di oggi eh con quello che che hai potuto hai potuto vedere a scrivere un libro di questa di questa di questa profondità credi che eh l'ambiente sia eh sia rimasto diciamo così anche genuino da questo punto di vista da tale da poter appare una descrizione come quella che che hai portato tu ma guarda questo questo non lo so perché ehm le le palestre io sono portata a credere che le vere palestre di box siano sempre uguali a quelle che io ho descritto nel libro cioè se se non c'è ehm se non ci sono se non c'è una determinata atmosfera non solo la la vera puzza di sudore che c'è nelle palestre di box ma una un'atmosfera di di estremo rispetto tra il maestro e tra gli allievi ehm che tu percepisci nelle nelle palestre di box vere eh allora quella non è una palestra di box se invece eh quando scendi gli scalini e vai sotto in queste palestre senti ancora questa questa cosa secondo me sì ci sono ci sono storie che possono succedere anche oggi con questa stessa ehm emozione con questo stesso eh sentimento sincero nei confronti della della box io ho accompagnato converti a ehm a portare dei ragazzi giovani al debutto ad esempio e quando io ho scritto il debutto di Enzo mi sono eh ho semplicemente scritto quello che ho visto fare da converti con un ragazzo che ha 15 anni adesso e certamente non con Enzo perché non non c'ero in quel momento però mh io credo che se il pugilato viene vissuto nella maniera giusta non cambi mi mi sembra una di di queste magari mi sbaglio non lo so però mi sembra un po' un punto fermo o almeno io io l'ho visto così certo eh no infatti quella la domanda sorge sorge spontanea anche eh anche vedendo di di nuovo sfogliando sfogliando il comparto fotografico e e vedendo la storia che sembra una una storia legata legata anche a un determinato periodo storico probabilmente eh e vista vista eletta eletta oggi alcune situazioni probabilmente si fanno si fa fatica a a diciamo così a portarle nel nell'era nell'era moderna dello dello sport eh che sembra sempre un po' un po' più come dire un po' più di plastica forse in alcuni in alcuni contesti eh probabilmente nel pugilato lo è molto meno che in altri eh però eh meno male lo sport è sempre è sempre soggetto anche ai cambiamenti dell'epoca in cui in cui si vive non so se questa è una anche delle sollecitazioni che hai che hai avuto durante durante la stesura di questo libro ma guarda ti ti dirò mi viene in mente ad esempio che eh quando io raccontavo la storia del del di Vincenzo eh allievo e Ciro maestro è stato poi eh un passo eh quasi naturale passare al Ciro allievo e il il suo maestro che 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 era è stato un un grande campione della box Guido Ferracin che tra l'altro a Vigevano è stato molto attivo con la palestra che c'è sotto lo stadio prima di prima di Ciro Converti ed ed era un un campione che aveva vinto il titolo europeo nel 1948 figurati e quindi sono tornata indietro ma non solo perché il maestro Guido Ferracin aveva avuto un un fantastico maestro che si chiamava eh Nando Strozzi che era nato a Ferrara nel 1910 quindi sono andata proprio indietro no? Ferracin poi era nato nel 26 Ciro è del 44 Enzo è del 69 però le cose che loro hanno hanno imparato nella box erano erano le stesse cioè io ho 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 capito da queste cose che ho che ho vissuto insieme a loro che se tu eh per te la box è un una nobile arte è una nobile arte al di là del degli anni che passano dei decenni della eh di di tutto cioè le probabilmente le stesse cose che Nando Strozzi negli anni 30 insegnava a negli anni 40 30 40 insegnava a Ferracin Ciro le ha insegnate le insegna tuttora le insegna tuttora un ragazzo che comincia a fare box questo secondo me è questo filo è la cosa meravigliosa della della box quella fatta nel modo che che piace a me a noi raccontare insomma certo certo l'ultima l'ultima domanda che che ti faccio riguarda riguardo a questo eh riguarda il anche il il linguaggio tecnico che tu per esempio sei riuscito a utilizzare anche nel libro nei suoi passaggi più più tecnici appunto e quindi più più complessi e denota uno studio uno studio della materia tu all'inizio mi dicevi che comunque inizialmente non non sapevi nulla di box prima di partire a scrivere questo eh questo libro eh per cui invece poi aprendolo eh insomma si vede un una una persona eh diciamo così erudita sul sull'argomento sul tema pur non essendo un tema semplicissimo per chi si avvicina anche per la prima volta per cui eh quello che mi ha sempre incuriosito è chi sono stati i tuoi maestri in questo senso in questo senso mi devo ripetere perché è stato sempre converti perché un po' un po' appunto insegnandomeli in palestra un po' vedendoli eh vedendo insieme insieme i met mi ha mi ha insegnato un po' questo eh questo linguaggio poi sai con converti sono andata anche a incontrare altre persone che conoscono la box ad esempio sono stata dal dal dottor ehm dal dottor Mario Ireneo Sturla a Pavia che è un un uomo che ha frequentato i i ring mondiali no da da sempre e anche da lui ho imparato molte cose sia che riguardano i sentimenti ma anche tecniche insomma ho studiato ho studiato un po' allora prima guarda prima dei titoli di coda ti faccio ti faccio un'ultimissima domanda su su cosa su cosa ti ha lasciato cosa ti ha lasciato scrivere questo questo libro e cosa ti lascerà probabilmente anche nei libri che poi scriverai perché ogni libro lascia sempre un una traccia nel diciamo così nella nella penna di uno scrittore e quindi questo che tipo di traccia ti ha lasciato e pensi che possa anche in qualche modo influenzare delle tue prossime pubblicazioni delle tue prossime opere ma ehm mi ha lasciato una una grande un grande senso di di sincerità nella nella scrittura e nel nel rispetto delle delle storie che eh che le persone ti raccontano questa non era la prima biografia che che scrivevo e ho sempre cercato di rispettare ehm la i fatti delle delle persone che mi mi raccontavano in questo caso è stato ancora eh ancora più più importante e poi la diciamo la lezione che mi ha che mi ha lasciato un po' è stato quello di di non arrendersi mai di di fronte a qualsiasi eh tempesta che la che la vita ti può ti può ti può riservare perché mh o dopo che ho che ho visto come il maestro e il campione si sono eh riusciti a a rialzare dalla dalla tempesta grossa che avevano avuto nella loro vita questo questo è stata una cosa molto molto importante sia per la mia scrittura ma anche proprio per per le mie per le mie cose di di vita insomma normali certo chiaro ehm abbiamo una la domanda di una di una lettrice che ci chiede eh e ti ti chiede anzi al di là del legame professionale cosa ha unito nella vita il maestro e il campione questo poi tu lo lo ripercorri anche all'interno del libro tra l'altro nella nella vita eh li ha uniti il sempre il la naturalmente il il pugilato ma eh ad esempio ehm l'idea di di fare eh di fare dei sacrifici no? Questa è un'altra cosa eh che unisce moltissimo eh un maestro un campione proprio perché un maestro prima è stato un pugil sono sono pugili no? Quindi il putte non ha eh non ha mai paura del 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 sacrificio e e quello e quello e quello li ha li ha uniti tantissimo è stato molto importante va bene Luisa io ho esaurito ho esaurito il tempo le mie domande e per cui eh questo è il maestro e il campione Blanc editore su Blanc.it eh il libro è disponibile sia in formato ebook sia in formato cartaceo eh in tempo di in tempo di quarantena e il libro vi può essere recapitato anche a casa tramite una spedizione anche gratuita eh mentre invece in formato ebook ovviamente se avete dispositivi digitali di lettura lo trovate su tutti su tutti i maggiori maggiori store del del mondo eh quindi Luisa eh noi sicuramente questa cosa la faremo un bis di questa presentazione dal vivo quando si si risolverà si risolverà questa 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 situazione e quindi speriamo di incrociare sia quelli che oggi ci hanno ci hanno ascoltato e hanno fatto hanno fatto domande sono rimaste in linea a sentirci sia poi eh un pubblico ancora ancora più più ampio quando andremo a fare le nostre le nostre presentazioni e presentazioni del libro se ci sono se c'è altro che vuoi aggiungere qualche specialità dedica speciale per te ti lascio il microfono voglio ringraziarti perché ricordo anch'io la prima volta in cui ti ho parlato di questa storia che ti è piaciuta molto e mi hai espronato ad andare avanti e quindi questa questa per me è stata un un il carburante più più importante di tutti e quindi l'ultimo pensiero va a voi di Blanc che mi avete creduto in questa storia e l'avete pubblicata vi ringrazio grazie a te Luisa per averci per averci scelto per aver deciso di lavorare con noi che per noi è un onore va bene siamo siamo giunti alla terra al termine alla prossima e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito il maestro il campione Blanc editore Luisa Mandrino ciao ciao